Ultimate le procedure per l'iscrizione, da domani Salvatore Di Somme e Giovanni D'Agostino inizieranno le grandi manovre per avviare di fatto la costruzione della squadra da consegnare a Piero Braia. La prima pietra sarà quella di Giuliano Laizza, difensore over di sicuro affidamento, che rischia di essere anche l'unico senatore sopravvissuto a Repulisti operato dopo la sconfitta di Terni. Il condizionale resta d'obbligo perché nelle ultime ore, dopo aver avviato decine di contatti e sfondati diversi procuratori, Di Somme e Braia hanno riallacciato la linea con Federico Andrenacci, agente di Alessandro Di Paolo Antonio. Per ora non c'è nulla di concreto, anche perché tra le parti ci sono tante cose da chiarire, ma la telefonata delle ultime ore è indicativa del fatto che almeno il ghiaccio è stato rotto. Il perché di questo ripensamento è probabilmente da ricercare anche nei prezzi, che in questa fase girano tra gli scaffali di un mercato dove l'effetto Covid sembra aver influito soltanto sulle finanze delle società. Giuseppe Rizzo, ex Catania ad esempio, ha nelle scorse ore rifiutato la proposta di un biennale con l'avellino, ritenendola troppo bassa economicamente. Fasi normali di un mercato che stenta a decollare anche se i lupi, tra due settimane, vorrebbero presentarsi a sturno con almeno un big mediana, da scegliere tra quattro esperti come indicato da Braia. I nomi sono quelli di Mariano Arini, ex che a 33 anni tornerebbe volentieri all'ovile e in scadenza con la Cremonese, Mirko Bruccini, fresco di svincolo dal Cosenza che a 34 anni ha disputato la sua migliore stagione, siglando addirittura otto reti, il talentuoso Domenico Mungo, che in Irpinia potrebbe approdare solo in caso di mancata iscrizione del Teramo, e Simone Della Latta, ex Piacenza ed ultima tentazione del duo Braia di Somma. Il 27enne, che si è svincolato dal Piacenza, ha uno stuolo di estimatori, con in testa addirittura la Reggiana, seguita da Bari e Padova. Attraverso i suoi agenti, Della Latta ha fatto sapere di voler dare precedenza alla Reggiana, dal momento che in B non è mai riuscito a metter piede piccola macchia di una carriera che lo ha visto collezionare 265 presenze tra i professionisti, condite da 22 reti.